In questa festa della Divina Misericordia, l'annuncio più bello giunge attraverso il discepolo arrivato più tardi. Mancava solo lui, Tommaso, ma il Signore lo ha tesso. La Misericordia non abbandona chi rimane indietro. Ora, mentre pensiamo a una lenta e faticosa ripresa dalla pandemia, si insinua proprio questo pericolo, dimenticare chi è rimasto indietro. Il rischio è che si colpisca un virus ancora peggiore, quella dell'egoismo indifferente. Si trasmette a partire dall'idea che la vita migliora se va meglio a me, che tutto andrà bene se andrà bene per me. Si parte da qui e si arriva a selezionare le persone, a scartare i poveri, ai molari che stanno indietro sull'altare del progresso. Questa pandemia ci ricorda però che non ci sono differenze e confini tra chi soffre. Siamo tutti fragili, tutti uguali, tutti preziosi. Quel che sta accadendo ci scuota dentro. È tempo di rimuovere le desiguaglianze, di risanare l'ingiustizia che mina alla radice la salute dell'intera umanità. Impariamo dalla comunità cristiana delle origini, descritta nel libro degli Atti degli Apostoli. Avevano ricevuto misericordia e viveva con misericordia. Tutti i credenti, dice il testo, avevano ogni cosa in comune, vendevano le loro proprietà e sostanze e li dividevano fra tutti secondo il bisogno di ciascuno. Non è ideologia, è cristianessimo. Avevano ricevuto misericordia e viveva con misericordia.